L'Oasi del piccolo lettore è un progetto di promozione della lettura e di libreria. Leggiamo gratuitamente libri per tutte le età a partire da zero anni in su. Veramente per i bambini ascoltare delle storie è un divertimento. Veramente se le godono fino alla fine, quando chiudiamo il libro, per loro è sempre una tristezza. Quindi questo ci fa ben sperare per il futuro perché chi impara a leggere a un anno, a due anni, a tre anni, poi lo farà per tutta la vita di sicuro. Vogliamo offrire loro uno spazio e un tempo di oasi, cioè in cui fare cose che gli piacciono e se non vogliono disegnare quello che diciamo noi, pazienza, purché si siano divertiti e purché abbiano ascoltato la storia. Un libro ben fatto è un libro che si riconosce e che soprattutto spinge chi lo legge a voler continuare a leggerne altri. Gli editori li conosciamo da parecchi anni, molti li conosciamo personalmente, sono delle persone animate di solito da una passione sconfinata. Il nostro logo è una spirale arancione perché ci ricorda la O di Oasi, ma anche perché è una spirale che dal centro cresce verso l'esterno, che è un po' il percorso che noi proviamo a indicare ai bambini quando leggiamo un libro, cioè quello di crescere allargandosi agli altri, facendo entrare tutto ciò che li circonda. Infine perché ci ricorda la caracol zapatista, la chioccia, il simbolo di questa comunità del Chiapas dove le famiglie crescono tutti insieme, i bambini crescono tutti assieme ed è per questo motivo che alla fine l'Oasi ha trovato casa qui a Mare Culturale Urbano in Via Cenni perché si vive un po' come in un villaggio tutti assieme. Il mare viene percepito anche dalle famiglie, dai bambini, come un posto molto piacevole e su misura per loro. Siete pronti a vederlo? Sicuri, sicuri? Sì! Wow! Dai! È una caracca! C'è 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 una caracca!